La Polledrara di Cicanibbio è un ricco sito archeologico-paleontologico che si trova su via di Cicanibbio nella zona di Castel di Guido, a Roma. Il giacimento della Polledrara, identificato nel 1984, rappresenta uno dei più ricchi depositi paleontologici esistenti. Oltre ai resti di numerose specie preistoriche di grandi mammiferi, quali elefanti, uro e cervi reali, presenta anche tracce dell'Homo edelbergensis, risalenti al Pleistocene Medio, quindi a circa 325.000-310.000 anni fa. Il sito è quello più ricco di resti di elefanti preistorici in Europa e il più ricco di resti uro in Italia, il boss primigenius, grande bovino estinto, da cui sono stati selezionati poi i bovini domestici. Per queste ultime ci sono manufatti di pietra, oltre che evidenze di macellazione e fratturazione delle ossa degli animali. Una struttura museale di 900 metri quadri protegge un vasto settore di quest'area archeologica di giacimento, identificata appunto nel 1984 e sottoposta a scavi fino al 2014. Attraversando una passerella sospesa potrete ammirare lo scavo archeologico con un tratto dell'antico alveo fluviale e l'ambiente palustre che conserva diversi e numerosi reperti faunistici. Ammirerete circa 20.000 resti fossili riferibili soprattutto a grandi mammiferi, come ho già detto, dal Paleoloxodon Anticus, elefante antico, al Bos primigenium, bue primigenio, fino al Cervus elafus, il cervo elafo, e ancora il bufalo d'acqua europeo, il rinoceronte e la lepre. Inoltre potrete vedere strumenti in selce e osso che documentano la presenza umana databile a circa 325-310.000 anni fa. Infine due imponenti fondali scenografici, realizzati con grande rigore scientifico, vi proietteranno nell'ambiente fluviale e palustre ricco di fauna e flora che hanno caratterizzato il plistocene medio.